Parlando della lotta alle violenze sulle donne alla plenaria del Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen ha detto vorrei che fosse sancito un principio fondamentale, non può esserci veruguaglianza senza libertà dalle violenze. La Presidente della Commissione Europea nel suo discorso a Strasburgo sullo Stato dell'Unione ha poi ricordato che con la direttiva sulla trasparenza retributiva abbiamo sancito per legge il principio fondamentale secondo cui parità di lavoro corrisponde parità di retribuzione, ma il nostro lavoro è tutt'altro che finito e dobbiamo continuare a spingere per il progresso insieme. La Presidente ha poi parlato di migranti chiedendo una nuova strategia di cooperazione Unione Europea-Africa.